Viva Moriani ha inaugurato e sarà aperta al pubblico fino al 26 marzo la vostra prima mostra che festeggia insomma 15 anni di Dynamo Art Factory, tanto un'iniziativa speciale, forse se vogliamo unica nel suo genere perché sono 140 artisti che hanno prodotto 2000 operi con i vostri ragazzi. È la prima mostra fuori dal camp perché in realtà noi di Mostre ne facciamo da 15 anni, ogni momento creativo ha il suo movimento espositivo quindi i ragazzi hanno la possibilità di vedere le opere che producono all'interno di un'installazione ben specifica, molto importante che si trova a Dynamo Camp. Questa è la prima volta che usciamo, usciamo per far vedere a chi non è stato così fortunato da venire a Dynamo Camp che è assolutamente una fortuna, può vederlo lo stesso qui in uno spazio pazzesco, uno spazio espositivo come la triennale. Siamo veramente emozionati per questo perché veramente è una tappa importante per Dynamo, un momento di riconoscimento, di celebrazione che ci rende veramente felici. Le opere parlano da sole, sono opere bellissime dove l'energia, l'amore, l'estetica, la creatività si incrociano come si sono incrociati appunto il lavoro creativo degli artisti con l'esplosione creativa dei nostri ragazzi e di tutti gli ospiti di Dynamo Camp. Per cui diciamo veramente parlano da sole, venite a visitare la mostra perché è meravigliosa e dà un'energia secondo noi molto molto importante. Il tutto insomma grazie anche a un vostro metodo perché qui si sono misurati con i vostri ragazzi, insomma artisti del calibro di Pistoletto, Isgro, ma anche Remo Salvatori, Gosmitechiari, Tosatti e molti altri. E si sa insomma, gli artisti sono super ego, come li avete convinti e abituati a lavorare così a tante mani perché c'è un'opera al David, ad esempio di Crespi, mi sembra fatto con 99 ragazzi. Sì, le nostre sessioni sono tutte di 99 ragazzi, quindi tutto quello che vediamo in giro, sia che siano opere uniche che opere collettive, sono fatte da 99 ragazzi. Gli ego ci sono, devo dire, tutte le volte che vado a contattare un artista, che inizialmente li dovevo quasi pregare agli artisti, oggi c'è un ottimo passaparola per cui Dynamo è riconosciuto come un metodo, un metodo molto serio, un'iniziativa che regala tantissima energia a tutti quanti, per cui anche agli artisti. Per cui oggi è più facile, però senz'altro lavoriamo con gli ego. Il metodo Dynamo secondo me è un metodo infallibile, è un metodo che mira appunto a coinvolgere tutti i ragazzi, è l'integrazione veramente fatta formula e metodo. Nessuno deve rimanere indietro e tutti devono essere parte di un momento creativo e di un'opera finale. E questo, devo dire, viene molto apprezzato dagli artisti che quindi perdono in quell'ambito, perdono un po' della parte, diciamo, negativa dell'ego e mettono invece tutta la parte positiva dell'ego. Anche perché, cioè, anche loro hanno un ritorno. E su questo tema, insomma, del dare per ricevere, volevo un tuo commento. Tra l'altro, insomma, tu sei non solo l'ideatrice di tutto questo progetto, ma anche una grande manager, possiamo dirlo, sei CEO di KME, oltre alle altre cariche. Quanto è importante, insomma, dialogare tra mondi differenti, quello del business, quello del terzo settore, la cultura, in un'osmosi che poi sia win-win e fruttifera per tutti. Devo dire che è stato... Dynamo in se stesso è un'iniziativa e è un esperimento che dimostra tutti i giorni la valenza di mischiare mondi diversi. Da quando siamo partiti con Dynamo, l'idea non era sicuramente quella di fare la solita non profit, ma era un esperimento vero di professionalità. E quindi di incontro tra profit e non profit, e prima di tutto tra professionalità e non profit, tra arte e non profit, e tra tanti mondi diversi. E devo dire che è la vera forza di Dynamo questo. Per il resto, gli artisti vanno via dal camp e ci ringraziano. Ci ringraziano perché ricevono molto di più di quello che danno. Queste sono le loro parole, non sono mie parole. Ma soprattutto molti ci dicono di trarre ispirazione per la produzione futura proprio da momenti di grande energia che hanno avuto a Dynamo. Quindi siamo molto contenti di questo. Siamo con una, insomma, che potrebbe essere anche una call to action, ma anche uno sguardo al futuro. Perché in questa mostra, tra le vostre opere, ci sono anche gli NFT e ci sarà un'asta. Sì, faremo un'asta. A fine febbraio, inizi di marzo, ora vi faremo sapere esattamente la data. Un'asta sulla piattaforma SuperRare, che è la principale piattaforma su cui appunto si fa trading di queste cose. Ci hanno accettato, pur essendo appunto non proprio un operatore artistico, né una galleria, ma in realtà, insomma, sono stati ben felici di averci a bordo. e quindi la produzione è stata importante anche di NFT. Continueremo, è una strada che piace molto ai ragazzi, è una strada che ci porta verso una tipologia di artista anche un po' differente e ci sarà quest'asta online, su cui ovviamente che servirà totalmente per fare raccolta fondi per Dynamo.